Non sappiamo da quanto tempo siamo sottoterra o chi abbia costruito il silo. Non sappiamo perché non ci sia vita al di fuori del silo. Sappiamo solo che qui è sicuro e là fuori non lo è. Hai mai notato qualcosa di strano? Riguardo al silo. Certi misteri è meglio lasciarli irrisolti. Qual è la grande domanda? E se tutto ciò che credevi fosse vero fosse una grande bugia? Ciao! 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 Ciao!